Ha presentato il colpo di mercato per eccellenza dell'Eltella senza nulla togliere agli altri nuovi arrivati un uomo che non ha bisogno di presentazioni, che ha giocato in palcoscenici importanti e che ha scelto Chiavari per rimanerci magari anche nei prossimi anni, anche lui vuole sognare insieme a tutta Chiavari, Igli Mannucchi! Sempre da Chiavari, sempre all'interno della presentazione dell'Eltella qui con il nome più importante di questa squadra, Igli Mannucchi Ciao Igli! Ciao a tutti! Igli Mannucchi, un passato importantissimo nei professionisti, Serie A abbiamo detto Empoli, Salenitana eccetera eccetera, tanta B come mai questa scelta di scendere a Lega Pro? Ma è una scelta che mi ha conquistato grazie alle parole del Presidente un progetto ambizioso, basato su tanti giovani, quindi non sono più di primo pelo ed è bello poter comunque contribuire anche alla loro crescita Quindi pensi di poter dare un grosso contributo per la salvezza o qualcosa in più? Io ho il desiderio di essere protagonista come motivazione quindi poi di conseguenza fare dei pronostici non è facile perché la squadra è ancora abbastanza cerba però ci proviamo a raggiungere il massimo obiettivo Dopo questa esperienza, Igli Mannucchi rimarrà nel calcio? Vorrai fare il mister, il direttore sportivo oppure farai altro? Sicuramente farò altro sono un grandissimo appassionato di pesca quindi spero di poter lavorare in quel settore Grazie mille Igli, un in bocca al lupo per fare questo bellissimo campionato e dare una mano a questa società di fare un ulteriore risalto Ciao Grazie a voi Ciao